I ragazzi sono all'opera, così come i capitani. Andiamo a disturbare. Partiamo dalla squadra rosa. Ciao, sono Simone Mari, docente di Integrated Advertising e Art Direction nel triennio, nella tribunale di graphic design. Dici cosa pensi del cliente, com'è stato il brief? Allora, il cliente è sicuramente interessante, il brief è decisamente dettagliato, siamo andati a fondo in tanti aspetti tecnici. Sono quelli che stiamo esplorando per mettere in piedi una strategia che poi ha un senso logico e creativo. Ci racconti in poche parole che cos'è un briefing? Allora, il briefing è la richiesta definitiva, diciamo la definizione della richiesta che fa il cliente a un'agenzia di comunicazione che è quella che si sta creando in questo preciso momento, in questa classe. Nel brief e nel briefing si trovano tantissime informazioni tecniche, tra cui il budget che c'è a disposizione, le tempistiche di consegna, il target di riferimento, quindi le persone a cui dobbiamo raccontare, con cui stiamo parlando. Tutti questi aspetti tecnici messi in fila uno dopo l'altro aiutano a veicolare la creatività e la parte creativa strategica per poi tirar fuori un'idea che funzioni e performi e che faccia tirare fuori un risultato effettivo al cliente stesso che poi utilizzerà questa campagna. È un'ottimissima cosa, è la prima volta che partecipi alla venticinquesima ora? No, non è la prima volta, ho partecipato a tutte le venticinquesime ore. E quante ne hai vinte? Neanche una. Grazie, bravo. Buon lavoro, grazie. Grazie a tutti.